In vista del varo della riforma del Corpo Forestale Regionale di Vigilanza Ambientale, prosegue il confronto tra i sindacati di categoria e la Giunta Regionale. Gli Assessori della Difesa dell'Ambiente, Donatella Spano e degli Affari Generali Gianmarco De Muro, hanno incontrato i rappresentanti sindacali per mettere a punto un percorso comune che porti a una nuova legge. Nella riunione di ieri sono state affrontate quattro questioni importanti, la missione e le funzioni istituzionali, la struttura organizzativa, la parte contrattuale e la disciplina del personale. Gli Assessori De Muro e Spano, si legge nella nota della Regione, hanno sottolineato l'importanza dei contributi arrivati dalle organizzazioni sindacali per ciascuno dei temi affrontati, che sono aspetti essenziali della riforma. La Giunta ha confermato ai sindacati l'impegno a presentare la bozza della norma, compresi gli articoli, entro la fine del mese, così come stabilito nel crono programma. Nelle settimane scorse, sulla questione della legge di riforma del Corpo Forestale, c'era stata la presa di posizione del sindacato Fenders Safor, che per il 29 agosto ha proclamato due ore di sciopero. L'obiettivo della riforma, secondo la Regione, è quello di adeguare la normativa anche alla luce delle novità in campo nazionale, col passaggio del Corpo Forestale dello Stato sotto regida dell'arma dei carabinieri.